A raccogli conosci e degusta che a San Pio delle Camere torna a celebrare lo zafferano, Federico Marrone, pasticcere della locanda aquilana da Lincosta, che cosa preparerà? Allora oggi proponiamo un dolce appunto a base di zafferano, accompagnato da licurizia e limone, per dare freschezza e acidità un po' al dolce. È un dolce che viene composto da un croccante salato al cioccolato e nocciola, poi c'è un biscotto morbido agli agrumi e tutto viene contornato da una melaga allo zafferano e una chips sempre agli agrumi per dare appunto freschezza al piatto. Com'è stato concepito diciamo? Il dolce è stato appunto concepito apposta per l'occasione, non volevamo fare un classico magari, potrebbe essere per quanto buono un tiramisù allo zafferano, ma volevamo cercare di mettere un po' più del nostro all'interno, accompagnandolo appunto con una nota acida e fresca come poteva essere quella di licurizia. Sarà poi proposto nel menù del ristorante o si ferma ad oggi? No, no, questa qua è una cosa che vogliamo continuare, anche perché lo zafferano è simbolo della nostra città e della nostra cultura, quindi vogliamo continuare a metterlo magari anche nel menù. Allora Federico, siamo in uno dei periodi dell'anno più interessanti dal punto di vista gastronomico, sia perché la stagione autunnale regala frutti interessanti e sia perché ci avviciniamo al Natale. Le tue sperimentazioni con i lievitati hanno già dato prova di sé, cosa c'è da aspettarsi per questo Natale e per i panettoni? Allora, questo Natale siamo molto positivi, abbiamo già iniziato con la produzione dei panettoni, infatti è già possibile ordinarli. Faremo due tipi per cercare di gestire al meglio la qualità del prodotto, lo faremo classico, quindi con i canditi e l'uvetta o altrimenti al cioccolato. Questi sono appunto i tipi che faremo e la produzione appunto è già iniziata. Ecco, la ristorazione ha attraversato il deserto negli ultimi due anni, adesso sembra esserne uscita, che riscontri avete nella locanda? Avete ripreso a pieno ritmo, l'estate è andata bene, cosa è cambiato rispetto a prima? Allora, fortunatamente non ci possiamo lamentare, l'estate siamo ripartiti molto bene, c'è una buona mole di lavoro, anche in questo periodo che normalmente è un po' più morto diciamo, si lavora, devo dire, abbastanza bene, quindi speriamo di continuare così e che non ci siano nuove chiusure. Grazie. Grazie a voi.